Ciao a tutti i campioncini, bentornati in questo nuovo episodio della Vanilla Qua è il vostro Demara che vi parla, vi dà il benvenuto all'interno di una foresta Perché ho costruito gran parte di una torre della nuova casa Di conseguenza volevo crearvi un po' di hype per mostrarvi il lavoro che ho fatto Per capire se vi piaceva come l'ho fatto off camera per poi riproporla anche nella seconda torre Per poi fare il finale tutti quanti assieme in un video unico Mi raccomando da subito lasciate un bel mi piace La casa è davanti a noi, io con me ho ancora qualche blocco e un pochino Se è intravista la seconda torre che si lascia lì in fondo Mi raccomando però lasciate un mi piace in questo momento So che alcuni di voi stanno guardando la Vanilla ma non sono iscritti Ed eccoci qua Io sapete che amo un sacco a dettagliare tutti quanti i miei progetti, tutte quante le mie costruzioni E dato che la torre nella Big Vanilla era sì carina ma non molto dettagliata Ho pensato di modificare tutta quanta questa facciata, riempirla I dettagli tra wall, tra lanterne, tra chain E spero che sia uscito un buon lavoro da parte mia che appunto volevo mostrarvi Ora, siete voi che dovete approvare questo lavoro A me piace tantissimo, sono in F1 non in creativa Per mostrarvi il meglio tutto quanto è il lavoro Diciamo che aver messo tutte quante quelle scale così creando tanti dettagli Le chain e questo è sia per questa facciata sia per la facciata posteriore Quindi diciamo che ho voluto già dettagliare tanto Anche se magari come progetto non vi piace e tutto quanto il resto Ditemelo qua sotto nei commenti perché ci tengo veramente tantissimo Questo è il primo piano, poi c'è il secondo piano E poi dovrò fare una specie di punta in questa zona che ancora manca Che non ho costruito perché volevo un attimo la vostra approvazione Però questa è una torre Da questo lato ho allungato i tre blocchi Perché sapete che il pavimento del secondo piano usciva di qualche blocchettino Quindi ho allungato e creato questa piccola trave Di qua manca ovviamente tutta quanta l'altra parte di costruzione Qua voglio creare delle specie di scale che seguono tutto quanto il percorsino Per arrivare al secondo piano Oppure abbiamo direttamente queste che ci portano a questa zona qua Che potrei creare per esempio come camera da letto Camera smistamento, tutto quanto quello che si può fare Qua abbiamo il nostro balconcino che ci fa vedere anche questa parte qua di dettagli Abbiamo per esempio una trapdoor con una fence Abbiamo una lanterna collegata a quei wall A me piace tanto Si può comunque migliorare Certo, non lo metto assolutamente in dubbio Si può sempre fare di meglio Però avevo bisogno dell'approvazione diciamo di questa prima parte del progetto Scrivetemi qua sotto nei commenti Se vi piace e se volete che io continui Magari ve la ripropongo nel prossimo episodio da quella parte lì Almeno mi dite se ho fatto bene o se ho fatto male Ora in questo episodio ragazzi continuiamo la nostra ricerca di diamanti Perché per chi se non fosse perso venerdì scorso sono andato in live E ho preso un po' di oro, un po' di smeraldi, ferro Questo piccolo diamantino che è il nostro primo diamante della serie Ma oggi andiamo alla ricerca di qualcosa di un po' più fortunato Devo prendere comunque questo raw iron perché voglio cuocerlo Se no siamo sempre fermi, non abbiamo neanche un pezzettino di armatura Cosa che comunque magari in questo episodio voglio farmi Perché è ok andare in giro un po' alla sprovvista senza niente Però abbiamo comunque bisogno di una piccola protezione Io nel metto in ferro stile candle me lo farei volentieri Qua quanti lingotti riesco a fare? Due Meglio di nulla anche perché la nostra ascia sta per andare a friggersi Dato che per costruire tutto quanto questo sta per far fuori un'altra ascia Ma attendo che questo iron finisca di cuocersi Intanto sono andato a prendere anche un po' di cibo Che non mi ricordo in quale cassa ho messo, credo in questo infatti Almeno nell'esplorazione di oggi andiamo un po' più safe E abbiamo più materiale E voglio craftarmi una bellissima ascia in questo momento Quindi craft in tebola alla mano Cosa che mancava qua per esempio Quindi la piazziamo qua fuori dalla zona della casa Anche se potrei portare il letto direttamente dentro Ma voglio prima finire tutto quanto il progetto Per poi anche arredare gli interni E adesso mi crafto questa ascia Per essere un po' più tranquillo Piccoli di ferro si ammessi bene Anzi questi quali possiamo unire e farne uno solo La spada non serve perché tanto uso l'ascia Prendo questo ferro e mi faccio magari un elmetto Dai, l'elmetto di Kendra in ferro è con noi E ora siamo più o meno protetti Non vorrei esplorare più di tanto Perché tecnicamente mercoledì esce la 1.20 Quindi non vorrei caricare più di tanti chunk Se non sbaglio nella live Siamo andati verso la solita caverna che c'era in quella direzione E siamo sbucati di là Non siamo mai andati dritti verso questa parte qua di mondo Per cercare una caverna Quindi voglio cercare qualcosa da questa parte qua del mondo L'altro giorno ho scavato anche qua del ferro E mi sono trovato una pozza di lava sotto i piedi Tutto ciò in live Ho rischiato di morire per la prima volta in live Sta cosa non è stata per niente bella Adesso mi ricordavo che di qua ho una parte di mondo piena d'acqua Però se io mi cicatapulto in questo modo E sbuco dall'altro lato Dovrei vedere un'altra caverna Che si nasconde dentro questa montagna Dato che ho comunque l'inventario più o meno libero Voglio droppare questa gunpowder Ho tutti quanti i blocchi ancora di costruzione L'endermen si è tippato nell'acqua No, sulle foglie Va bene Minecraft, non ti preoccupare Voglio prendere questa sabbia Almeno posso metterla a cuocere per fare qualche altro vetro Perché li ho praticamente quasi finiti Qua non ho più vetro infatti Mi ricordo che li ho completamente terminati Quindi mi serviva prendere qualche pezzettino di sabbia E non ho con me delle torce Quindi mi faccio giusto un po' di stick in più Almeno già ce li ho pronti Appena colgo il coal posso farmi delle torce in più Qua c'è una fessura Ok, mi sembra una zona di caverna Che potremmo anche magari Sentrarci, catapultarci all'interno La mia speranza è di non trovare ancora i blocchi del warden Perché in live ho rischiato di far spawnare il warden Facendo veramente troppo, 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 troppo caos Stavo spawnando, sono scappato in tempo E ce l'ho fatta salvarmi Problematica questa corrente d'acqua Almeno mi sono fatti giusto 10 pezzettini di coal Che corrispondono a 40 torci Dai, meglio assolutamente di nulla Mettiamocene qua e possiamo direttamente piazzarle Ok, vedo della dripstone Vedo anche un creeper Sì, c'è un creeper Io questo copper lo prendo volentieri Signor creeper, lei credo che non possa fare climbing Su una montagna Però può anche esplodere magari Che ne pensa? Signor creeper, no? Ok, lo faccio esplodere io Bene, ho sentito però un altro rumore di un altro creeper No, me lo sono sognato Torcifichiamo, per favore Ok, sento zombie Ottimo, più o meno Buongiorno, buongiorno, sento i vostri passi Oh, infatti sì, vedevo che c'erano tutti quanti questi starattiti Mi sembra una caverna diversa rispetto a quella che avevamo già esplorato E il fatto che io non veda le mie torce mi rende tanto felice Però stiamo anche tanto attenti Qua c'è dall'altro raw iron che voglio prendere Io ho paura che dall'alto mi cada qualcuno Però ho piazzato già abbastanza torce Ah, e se mi vedete un po' bruciacchiato in viso, ragazzi È perché sono andato a registrare l'altro giorno Un video in compagnia di Marci Di Xiao, di tutti quanti altri ragazzi In un campetto Quindi abbiamo registrato un sacco di video che usciranno nei prossimi giorni E sono un sacco felice L'unica cosa è che siamo andati a registrare In montagna, praticamente Perché ci hanno dato un campo bellissimo E c'era un sole incredibile Mi sono bruciato la faccia Infatti sono completamente viola Non per colpa delle luci o altro Ma perché appunto non abbiamo portato la protezione E sono completamente bruciato Mi fa male anche la faccia quando parlo Però vabbè, fa niente Possiamo magari non cadere qua dentro E sento anche altri passi di zombie I pistalli mi fanno veramente paura in questo gioco Prima o poi integreranno un mostro gigante I pistalli a modo di Batman Però vabbè, mi prendo questo Iron Giusto così perché ne ho bisogno molto Dio Iron Perché vorrei farmi magari un'armatura Verso fine episodio Ah! Mi è venuto un infarto Io ho la mia età Cioè, non è che ho Quattro anni, eh Come faccio a spaventarmi dei zombie di Minecraft Potete vedere il metto di Kendall Farà sì che non avrò mai paura di voi Dato che comunque i vostri consigli sono tanto utili Ragazzi Consigliatemi magari come cercare di capire Tramite le nuove caverne Come trovare i minerali un po' più in fretta Perché avendo cambiato tutta quanta generazione Dei minerali stessi Io ho un po' di problemi In live mi avete detto Che il diamante spona da meno 50 in poi Però datemi un po' più di spiegazioni Ok, grazie Un attimino per comprendere Come e dove spawnano i vari minerali Se magari hanno cambiato anche la generazione Delle vene, dei minerali Tutte quante queste cose Sarebbe una grande mano Anche perché mi ricordo che per esempio Quando hanno aggiornato la prima volta le caverne Io ero entrato in un mondo completamente a casa In creativa Per comprendere appunto Che se trovassero i vari minerali E mi ricordo che trovo diamanti un po' ovunque Adesso in questa serie Sto facendo un sacco fatica a trovarne i diamanti L'altro giorno un'ora di live in caverna Un diamante! Lamentarsi funziona! Io ne ho trovato solo uno di diamante L'altro giorno Quanto ce n'è? Uno? Ok, ottimo Due? Due diamanti Vabbè, meglio di nulla ragazzi Noi siamo qua appunto per questo motivo Siamo in una missione di diamanti Quindi prendiamo più possibili Tutti quanti questi minerali Oltre che i diamanti stessi Però noi siamo all'altezza Meno 16 Ok, siamo bassissimi in realtà Quindi Sto cercando di comprendere Perché qua stiamo continuando a scendere Ma no Ma scusatemi In live mi avete detto Che si trovano a meno 50 diamanti Sono veramente tanto confuso Non lo so Fareva gli schetri con l'Aimbot Salve! Buongiorno anche a lei Pam! Pam! Eh? Eh no no Amici, 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 amici Diamoci tutti Siamo tutti quanti amici per favore Ah, e in live abbiamo trovato anche uno spawner di schetri Il che potrebbe essere utile per eventuali farm Molto utile per eventuali farm Che però non so se hanno cambiato magari Uh! Diamanti! Eh, dicevo Non so se hanno cambiato Come funzionavano i vecchi mob spawner Quelli verticali All'interno di queste nuove versioni di Minecraft Quindi sarete voi un attimino a darmi una mano Per farmi capire meglio Come magari generare delle nuove mob farm Per ora comunque siamo a 4 diamanti Per niente male Mi ricordo che in live ci ho messo un'ora per trovarne uno Ora, in 13 minuti di registrazione Ne ho trovati 4 Però di conseguenza io non trovo coal O almeno Magari non lo vedo io perché sono cieco Ma mi serve in realtà perché Se no non posso craftare altre torce Grazie Crafto una bella fornace E quasi quasi faccio share coal Perché se no ragazzi qua non riesco ad andare avanti Sto veramente facendo fatica a trovare il coal Stanno arrivando un sacco di zombie da qua in alto Ma vorreste dirmi Che c'è un mob spawner Perché È tipo il quarto zombie E è arrivato anche un mini zombie Da sto lato Se no creeper Lei non mi pare uno zombie Non lo so Non dubito fortemente Ok Di qua ci sono passato anche Molte volte mi sa Però tipo qua a destra Non sono mai andato Cosa c'è qua a destra? Oltre il buio totale Ah Dannazione a te Dannazione Mi fa venire un infarto ogni volta Sto completamente perdendo eh Cioè ve lo dico Però è anche un po' il bello di questo gioco Cioè Andà Nelle caverne Tanto Prima o poi una salita In qualche modo la ritrovi Come puoi anche trovare La morte Non lo metto in dubbio Però va bene così Ci sono delle insegnature Che veramente ti sembrano Che ti portino in posti Pericolosissimi Dove possa finire Tutto un momento all'altro Però è carino Veramente Perdersi in queste bozzone Super frastagliate Si può scendere ancora Non di qua Ma mini zombie Come sempre Meglio di un warden sicuramente Sono caverne qua a lato? Ho zombie sulla destra Ma Ok Sì no è qua Qua c'è un'altra caverna Sicuro Beh quasi quasi Mi c'è catapulto direttamente Ok Uh Beh Questo è un gran colpo ragazzi Ottimo Quanti diamanti saranno? Proviamoci Uno No Guardi qua si scende ancora Lasciato indietro dell'oro Lo so C'è un mineshaft Ma Che figo Che figata Un altro diamantino qua Ma che altesta siamo? Meno 46 Ok Qua ci posso stare un po' di più Ma C'è solamente Questa rail Eh Ok Oggi non trovo coal Cioè non Completamente Despawnato il coal Da minecraft Altri diamanti Top Due diamantini Uno Due Ah Niente Altro redstone Ma io voglio il coal ora Spawner e tuoni Meglio di così non si può Ci siamo Siamo arrivati a casa In piena tempesta Vorrei dormire Almeno ci leviamo dalle scatole Questo piccolo problema Ok Possiamo dormire Perché infatti È una bellissima tempesta Più o meno bellissima E siamo comunque tornati a casa Con un buon bottino Di 8 diamanti Un po' di oro Che voglio mettere direttamente Qua a cuocere Quindi mettiamolo a cuocere Di qua mettiamo 8 quanto Raw iron 29 pezzi di ferro Finalmente possiamo farci Una bella armatura Quindi qua 1 2 3 4 Ok Potrei farmi anche Una spagna in diamante Ma decidete Come utilizzerò il diamante Nel prossimo episodio Scrivetelo a voi Questa nei commenti Noi ragazzi Ci fermiamo qua Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate un mi piace Ciao